Giornata dedicata a Ottorino Respighi dal Teatro Comunale di Bologna. Il musicista nato nel capoluogo emiliano ottenne proprio qui anche il suo primo grande successo con l'opera Semirama. Trasferitosi a Roma per insegnare al Conservatorio Santa Cecilia, Respighi rimase sempre fortemente legato alla città natale. Questa mattina in via Guidoreni, al numero 8, nella casa dove nacque, è stata scoperta una lapide che lo ricorda tra l'altro come gloria della scuola musicale bolognese. Alla cerimonia rappresenta il sovrintendente del Teatro Comunale Luigi Ferrari, il presidente dell'Accademia Filarmonica Fulvio Angius e l'assessore alla cultura del Comune di Bologna Marina Deserti.